Il filtro del cervello. Consideriamo il sole. È un astro che emette luce, calore e un'infinità di radiazioni. L'energia del sole arriva alla terra attraversando i vari strati dell'atmosfera, ionosfera, troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera eccetera. Questi hanno la funzione di filtrare l'energia solare che altrimenti sarebbe dannosa per la vita umana. Parimenti l'uomo non può accedere all'energia dello spirito se non attraverso un riduttore decodificatore di potenza che è il cervello il quale evita all'uomo di impazzire. Le droghe spesso hanno l'effetto di bypassare questo riduttore decodificatore con esiti mortali. Commento. Nella sindrome di Down è sempre il filtro del cervello, in questo caso malformato, che vieta al cervello del malato di esprimersi pienamente. Di per sé il pensiero giungerebbe integro al cervello. Grazie. 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 Grazie.